Ciao a tutti, mi trovo oggi in Lessinia e sto aspettando i committenti per uno degli ultimi incontri. Abbiamo ultimato la sistemazione di questa contrada realizzata completamente nel 1879 in pietra, calce e paglia e l'abbiamo strutturata con materiali compatibili con l'esistente. Ecco qui, questa è la contrada, sono all'incirca 240 metri quadri, suddivisi in un piano sottostrada, un piano tar, questo, un piano primo e un sottotetto. Di particolare è questa unità, le unità sono una, due, tre unità abitative, più questo che è il fienile e sotto abbiamo la stalla che verranno recuperati, diciamo, come spazi comuni, anche per gli esterni, dove qui magari si potrà anche lavorare all'interno di questo bellissimo paesaggio. Questa è stata per arrivarci, ci si può arrivare chiaramente in macchina, ma meglio arrivarci a piedi o in bicicletta, giusto per godere del paesaggio.